La chirurgia generale di Pulistena, diretta dal dottor Anastasio Palmanova, continua a dare buona sanità. Solo negli ultimi giorni, tra i tanti interventi chirurgici, sono stati sottoposti ad un delicato e lungo intervento di chirurgia oncologica una paziente di 90 anni affetta da un tumore recidivo con grossa metastasi al fegato ed una paziente con più di 80 anni con una massa addominale tumorale di circa 40 cm con un ottimo risultato oncologico e normale decorso post-operatorio. La buona riuscita nel trattamento chirurgico dei pazienti oncologici è data anche alla grande collaborazione che c'è tra la struttura complessa di chirurgia generale proprio col primario dottor Anastasio Palmanova, coadiuvato dal personale medico e paramedico e i vari servizi del presidio ospedaliero di Pulistena in particolare grazie al lavoro costante ed altamente professionale del personale medico e paramedico del servizio di anestesia e rianimazione diretto dalla dottoressa Francesca Liotta. La struttura complessa di chirurgia generale di Pulistena negli ultimi mesi è stata munita dall'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria diretta dal dottor Gianluigi Scaffidi di apparecchiature di ultima generazione come la colonna laparoscopica 4K, l'Aersial, lampade sciatiche per la sala operatoria ed altro. Anche l'attivazione della risonanza magnetica ha dato un valido contributo al completamento diagnostico per le patologie oncologiche e non solo. Presso la chirurgia generale di Pulistena si effettuano interventi di chirurgia generale ed oncologica sia con la tecnica laparoscopica mini-invasiva con le tecniche tradizionali. Nella chirurgia generale di Pulistena afferiscono pazienti provenienti dalla piana di Gioia Tauro, dalla Locride e dalle aree limitrofi sia per le emergenze e urgenze che per gli interventi chirurgici in elezione. Anche presso il presidio ospedaliero di Pulistena vengono attuati e rispettati i PDTA, i percorsi diagnostici teropetici assistenziali. L'ottima riuscita nel trattamento dei pazienti oncologici dipende dal lavoro e dell'equip tra la chirurgia generale, la radiologia e il servizio di anestesia e rianimazione, l'endoscopia e il centro trasfusionale con il laboratorio analisi, la cardiologia, l'anotonomia patologica e la medicina generale oncologica. Anche presso il presidio ospedaliero di Pulistena ci sono delle grandi eccellenze, anche l'ASP di Reggio Calabria ha validi professionisti che possono fare evitare viaggi della speranza.